Ciao ragazzi, mi trovo in Via Roma, vicino Piazza San Domenico, alla mia sinistra bellissimo il Teatro Biondo. Prima di andare a cena volevo farvi vedere una cosa. Guardate che meraviglia il Teatro Biondo, tutti gli addobbi, quanto è prezioso, che bello. Bene, continuiamo fino a San Domenico. Sono arrivato a Piazza San Domenico, guardate che meraviglia San Domenico. Pensate, sorge nello stesso punto dove sorgeva una chiesa a quattrocentesca e prima ancora a trecentesca. Poi fu edificata nel 1640, va bene anche se il prospetto è pienamente settecentesco. Guardate che meraviglia, vi porto a vedere l'albero. Che meraviglia, guardate ragazzi. La gente si fa le foto. San Domenico, l'albero blu di Piazza San Domenico. Questa è la chiesa, la seconda chiesa più importante della città. E qui dentro ci sono le tombe di uomini importanti del passato, fra cui Francesco Crispi e il giudice Giovanni Falcone. Guardate che meraviglia, ragazzi. Che bello il Natale a Palermo. Che meraviglia. Sbirciamo dentro. Qui dietro c'è un ristorantino, niente male, proprio dietro San Domenico. Questo è il dietro di San Domenico, in questa bella piazzetta. Vi faccio vedere un altro albero. Proprio qui c'è un localino, niente male, che si chiama Ferramenta. Guardate che carino che era... Questa era una ex Ferramenta, diventato un locale per aperitivo, però hanno lasciato tutte le vecchie... I vecchi arnesi del nonno. Guardate che... Guardate in questa foto. Era così fuori. Nella sala accanto si può anche scenare. Noi però stasera prendiamo solo l'aperitivo. E poi andiamo a cenere in un altro posto bellissimo. Qui vicino. E' per l'evo. 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 Bruna guarda l'abside della chiesa, guardate, dei San Domenico, mentre ci facciamo l'aperitivo. Pochi metri più avanti arriviamo finalmente a cena, all'osteria, mangia e beve. Lo stile rimane quello dell'antica trattoria. Con un tocco di modernità. Questo è un bel quadro, un croce a taravella, eh. C'è anche un bel esterno che Bruna apprezza. Diamo un'occhiata al menù. Guardate che bello questo tavolo con dentro. Guardate. Dentro al tavolo, sotto al vetro, ci sono le scatolette di tonno. Ma soprattutto la cosa bella di qua è che ti danno questo qua, lo scaccio. Cioè lo schiaccio, perché va schiacciato con le mani. Eh? E si mangiano i semini, le noccioline. Si butta tutto per terra. Ci tengono in maniera particolare che le bucce vengano buttate per terra. E noi lo faremo. Carina l'idea di usare i barattoli del tonno come portapane. Date dentro che è carino anche questo balcone. Ma non è un esterno. Wow, cos'è? Un voltino di melanzana? Wow, che... Che cosa sono? Mamma. Wow. Questi sono i miei mangi e bevi favolosi. Guardate che meraviglia. E cacio all'argentiera. Guardate che meraviglia, ragazzi. Va bene, io ho finito di mangiare. Adesso vado a pagare. Mi porto una di queste. Me la porto a casa. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao. 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 Ciao.